Forza ci siamo, manca un successo nella tua carriera, chissà che non sia oggi, incrociamo le dita, dai il massimo senza calcoli, comunque è stata già bellissima la prima match. Non ti inclinare, partita determinata, non deve cominciare a saltare, a perdere di atterezza. Non ti inclinare qui, ecco fuori, qui è fuori. E' veramente una pista sfortunata questa per Emanuela Mung. Speravamo tanto che dopo la prima prova avesse cancellato dalla mente. E' veramente una pista sfortunata, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, su questa pista non è mai riuscita a fare bene. Oggi sembrava che tutto potesse andare per il verso giusto. Invece, in questa curva verso sinistra, era molto precisa, molto chiusa sul palo, però poi non è riuscita a appoggiarsi bene, quindi si è trovata fuori. Finché è riuscita a recuperare l'assetto sullo sciera fuori dal tracciato. Un vero, vero...